Oggi ti parlerò di come poter recuperare 105.600 euro acquistando un nuovo appartamento. Ciao a tutti, sono Alberto Diabita. Oggi sono al mare, esattamente tra Bellaria e San Mauro Mare, dove verrà realizzato un nuovo fabbricato con 6 appartamenti e una casina singola. Questo fabbricato sarà in classe A con tutti gli ultimi ritrovati tecnologici, ma la vera peculiarità è che si tratta di una riqualificazione sismica e ogni appartamento, quindi ogni nuovo acquirente, potrà avere un credito di imposta pari a 105.600 euro. Quindi poi l'acquirente deciderà se poterlo recuperare personalmente o cedere a una banca o un istituto di credito. Hai capito bene? Se vuoi sapere maggiormente come funziona, contattami e ti darò tutti i dettagli e le informazioni necessarie. Ma non fare confusione, è lui il vero Babbo Natale! Grazie a tutti!